Dopo la sua cancellazione, il bonus psicologo rientra nel decreto Mille Proroghe. Gli psicologi della Puglia esprimono soddisfazione. Ascoltiamo. È solo un primo passo verso il rafforzamento dell'assistenza territoriale e psicologica. Con queste parole, l'Ordine degli Psicologi di Puglia accoglie l'impegno del Governo a inserire il bonus psicologico nel prossimo decreto Mille Proroghe. Si tratta di una misura dedicata all'assistenza psicologica post-pandemia. Il Governo, ribadiscono, ha capito l'urgente bisogno di supporto psicologico chiesto a gran voce da tutti, soprattutto dai giovanissimi. Noi siamo molto contenti di questo risultato perché il bonus costituisce una responsabile risposta ai bisogni dei cittadini, un ottimo segnale di attenzione a questo momento che è sì post-pandemico ma anche pre-pandemico perché i disagi esistono da prima, sono stati acquiti dalla pandemia, quindi hanno ricevuto una condizione di aggravamento e quindi risulta una complessità che va assolutamente affrontata. Gli psicologi non considerano questa una risposta conclusiva ed esaustiva ai bisogni dei cittadini. Non possiamo affrontare situazioni di emergenza, dicono, con misure di emergenza. Quello che noi ci auguriamo è che queste misure diventino più strutturali nell'ambito non solo del servizio sanitario, con servizi dedicati alla psicologia di base, alla psicologia delle cure primarie e nei servizi specialistici per la salute mentale, per la disabilità e quant'altro, ma che diventino strutturali anche nella scuola, con la psicologia scolastica e negli enti locali. Grazie! Grazie!